L'italiano, lo ripetiamo ancora, lo stiamo dicendo da molto tempo, non ha più la grande forza economica che aveva in passato, dove andava a fare un po' quello che faceva la Lega Araba, andava a prendere i migliori, li portava via, supercontratti, ingaggi, eccetera, eccetera, campionato ricco, ne abbiamo visti qui da noi. Non è più possibile questo scenario, ora quindi io non lancio un allarme, lanciamo invece il fatto che ci deve essere la reale conoscenza di quello che possiamo fare in questo momento. E allora, se quei personaggi che vengono messi lì, i protagonisti della Serie A, in questo momento sono così corteggiati dalla Lega Araba e potrebbero anche andare, beh che andassero. Perché mi spiego, con tutto il rispetto, non lo sto dicendo perché ce l'ho in particolar modo con questi protagonisti della nostra Serie A, ma noi non possiamo offrire quelle cifre. E allora, se ad esempio José Mourinho, che ha un grandissimo curriculum di vittorie, in questo momento è attratto, faccio per dire, dai soldi della Lega Araba e vuole fare il Dream Team, può andare, perché qui non si può fare. Se Sarri ritiene che il suo calcio scintillante, che non vediamo da un bel po', insomma, perché siamo fermi a Napoli, poi l'abbiamo visto a Sprazi dopo, non abbiamo visto questa continuità. Se lui ritiene che il suo calcio scintillante lo può fare lì, che vada. Di Bala, che tra l'altro abbiamo visto poco in questi ultimi anni, può andare in Arabia, magari lo vedono poco anche lì, però lo riempiono di soldi, può andare. E così gli altri. Magari sarebbe anche il caso di ripartire con un calcio diverso, anche un po' più vero, con dei valori magari diversi. Ma anche dei giovani, il calcio italiano può andare avanti in questo, cioè noi dobbiamo essere coscienti di quello che possiamo realmente fare in questo momento. Chi vuole venire ad allenare in Italia, a giocare in Italia, sa che non può pretendere quelle cifre. Quindi, se l'obiettivo è ottenere quelle cifre lì, andassero, perché lì li possono riempire di soldi, di oro. Noi ci dobbiamo preoccupare in questo momento di una cosa, cercare di allestire delle strutture migliori. I nostri stadi fanno ridere, la stragrande maggioranza. Ecco, bisognerebbe prendere spunto di questo, ad esempio dalla Premier League, cominciare ad andare in questa direzione per poter riattivare il nostro calcio. Ma se questi personaggi, ripeto, sono attratti dal denaro e loro, diciamo così, sono legittimati a farlo, possono andare. Ma non lancerei un allarme. Non è un allarme questo. Noi dobbiamo essere consapevoli che il nostro calcio non può competere. Quindi, ripeto, se questi protagonisti sono attratti dai soldi e io non ho nulla da dire da questo punto di vista, possono andare a giocare in un calcio finto. Possono andare. E noi magari possiamo riscoprire qualcosa di diverso.